Ciao a tutti ragazzi, oggi vorrei spiegarvi una canzone che ascoltavo quando ero piccolo e l'ascoltavo quando guardavo un cartone e avevo più o meno 7 anni all'incirca. Parlava di una bambina che ogni tanto gioca e c'era un bellissimo albero tutto bello grigio parlante ed è un bellissimo coniglietto tutto azzurro. Questo cartone, dico più e meno, è intitolato Insieme a Rosi. E adesso vorrei presentarvi come più o meno ho imparato a suonarla con la mia chitarrina che ho ricevuto ancora alcuni mesi dopo l'uscita del mio canale YouTube con il primo video delle campane della chiesa di Sant'Alessandro di Massanzago che suonano mezzogiorno con la prima partenza della distesa della campanona per due minuti e mezzo e poi per sei minuti e mezzo il concerto solenne in ambrosiano con tutte le campane. E adesso, con tutto il mio piacere, con questa mia chitarrina, ve la farei ascoltare. Ok, ascoltate. Canta con noi Canta con noi Come giocherai Non arriverai Non ti affronterai Insieme a Rosi Porta vai su Venirai Con tanti amici Parare potrai L'altra Rosi L'altra Rosi Oggi così giocherà L'amicizia più bella sarà Ovvero, le parole sono molto difficili da riconoscere perché Più o meno, come si dice, le parole sono molto più facili da riconoscere come è composta la sigla E così, insomma, potete impararla anche voi E spero che la vostra canzone vi sia, ovvero, piaciuta da come ho provato a suonarla per voi Comunque, se vi piace, scrivetemi un commento sul video e poi ve lo valuto con molto piacere E la prossima volta, quando farò la raccolta degli altri cartoni che guardavo quando ero piccolo Ve lo suonerei ancora con questa mia chitarrina qui E così allora vi racconterei tutta la mia passione di cartoni che guardavo quando ero piccolo E dovevo ancora realizzare questo mio primo canale E comunque, insomma, buona continuazione e spero che fin da oggi il video vi sia, ovvero, piaciuto Comunque, grazie della continuazione Ciao, arrivederci Ciao, ciao